Inaugurata sabato 17 dicembre all'interno dei nuovi spazi della Galleria Civica d'Arte Contemporanea di Palazzo Moncada, la mostra personale del maestro Salvo Bonnici, dal titolo Io siamo noi, una speranza nella ferita, curata da Antonio Vitale con i contributi critici di Gorghe Faccio, Lince e Andrea Guastella insieme a Licia Oddo, evento promosso dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra con il patrocinio del Comune di Caltanissette e del Comune di Catania. Il messaggio che vogliamo dare è quello che sotto tutte le forme delle arti, in questo caso figurative e artistiche, vogliamo sensibilizzare ad una cultura di pace perché solo partendo da una cultura di pace possiamo un giorno forse giungere veramente a parlare di pace. Ed è una cosa molto importante da portare in avanti nelle scuole, non doverle pubblicizzare maggiormente. L'arte si fa strumento di pace, ben cento le opere esposte realizzate da Bonnici dal 2010 ad oggi, un percorso pittorico e distillativo che parte dal senso di incertezza e precarietà dell'opera deflagrazione per proseguire in ciascuna delle tre sale successive, passando dalla dolcezza e tenerezza che sfuggono alla devastazione della guerra, metaforicamente rappresentate dai gatti presenti nei dipinti fino al messaggio velato di luce e speranza attraverso il risveglio delle coscienze. Proprio nella terza sala, 12 installazioni che raccontano le anime fragili in un viaggio immaginario da Oriente a Occidente, con il messaggio conclusivo che c'è sempre luce e speranza nel mondo grazie a chi si rende promotore di pace. La mostra sarà visitabile fino al 28 gennaio, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Grazie a tutti.